You won't admit you love me, and so, how am I ever to know, you always tell me, perhaps, 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 a million times I've asked you, and then I ask you over, I ask you over, I again, you only ask you over, I again, you only ask you over. Or you can eat it in Sicilia, or if you do it, as I show you, follow the recipe. Lavate and cut in two 1 kg di rosso, ciligino di etterino, come me, per esempio, e tutti questi ingredienti. Mettete a soffriggere con un po' d'olio, una cipolla e dell'aio e fate sobollire per circa un'oretta, fino a questo punto. Fate raffreddare per un po' e poi passatelo col passino, fino a formare questa bella crema gustosa. Solo adesso aggiungete il basilico e li portate sul fuoco per altri 10 minuti. Tagliate a fette a dadini delle melanzane e spurgatele con un po' di sale. Friggetele in olio abbondante, se possibile olio d'oliva. Mi sembra strano, ma più olio mettete, meno ne assorbono. Frittura per immersione. Io ho voluto dare anche una nota sapida con della soprassata calabra. Un soffrittino, aggiungo una parte del sugo di pomodoro e poi la melanzana fritta, quella a tocchetti. Aggiungiamo la pasta e mantechiamo tutto insieme e siamo pronti per impiattare. Ma quanto è buona la pasta alla norma? Se ti è piaciuta, salva la ricetta e prova a replicarla. E lascia un like e commento. Alla prossima! Dai, e che ci vuole?